Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come state? Allora oggi è una giornata un pochino di relax lato Juventus, nel senso che non abbiamo nè una conferenza stampa, non abbiamo una preparazione di una partita, quella sarà domani no? Domani inizieremo a parlare della partita, del match importantissimo che giocheremo domenica a pranzo a Bergamo contro l'Atalanta. Oggi invece possiamo fare semplicemente delle chiacchiere anche perché ci sono alcune cose da raccontare. Intanto sentivo il video di Romeo Agresti che parlava di Kuluseski quindi vi rimando a lui se volete attraversare, se volete cercare di capire un pochino la situazione dell'esterno in prestito al Tottenham dalla Juve che potrebbe essere una sorta di tesoretto. Ma vi cito questo video perché c'è stato un passaggio molto molto importante fatto da Romeo che sembra una banalità in questo momento eppure non lo è. E cioè si parla di Milik. Romeo dice Milik ad oggi potrebbe essere scattato dalla Juventus per una cifra bassa quindi intorno ai 7 milioni di euro ma si aspetta a fare questa cosa per un motivo e cioè si aspetta un nuovo direttore sportivo. Ora sappiamo che la Juve sta lavorando in quella direzione, anche Calvo l'altra sera ha parlato di questa figura, la Juventus dovrà inserire all'interno dell'organigramma un direttore sportivo, anche Allegri all'interno delle conferenze. E' andato a toccare determinati tasti quindi penso proprio che la Juventus vedrà un nuovo direttore sportivo anche a causa appunto dell'inibizione di Federico Cherubini confermata dal ricorso respinto qualche settimana fa. E ora attendiamo ancora queste motivazioni di questo ricorso che ormai le due settimane sembrano essere passate anche l'altro giorno nei commenti un ragazzo mi faceva notare questa cosa e gli avevo detto guarda anch'io mi stavo interrogando proprio su questo, aspettiamo e vediamo. E quindi direttore sportivo per la Juve dovrebbe essere bene o male una banalità non nel senso che sarà facile andare a inserire nell'organigramma un direttore sportivo, quanto più una banalità ha scontato il suo arrivo. Bene, quindi viene da sé che parlare di Pau Torres in questo momento secondo me è pura utopia, oggi non ve ne ho parlato proprio perché non credo che la Juventus in questo momento stia programmando dei veri e propri acquisti tranne come vi dicevo ieri un esterno destro ma non che abbia già individuato l'esterno destro e abbia già capito. Ci sarà una priorità, ci sarà una volontà di andare su quel profilo lì. È proprio sul discorso Milik, quindi del riscatto, proprio sul discorso centrale di difesa sinistro, proprio sul discorso del direttore sportivo allora mi chiedo, Alexandro passa da lì? Perché sappiamo bene, bene o male, più che bene, che il rinnovo di Alexandro sembra essere cosa fatta, che non si andrà sul discorso legato al rinnovo automatico di Alexandro, bensì la Juventus è consapevole e volenterosa di rinnovare appunto questo contratto ad Alexandro e si farà a priori, però è da un po' che non abbiamo aggiornamenti su questa roba qui. Quindi ancora una volta dico, Milik si aspetta il riscatto per questo, magari anche il rinnovo di Alexandro passa per questo e stiamo parlando di giocatori interni alla Juventus, un riscatto, un rinnovo, io non credo che oggi la Juve abbia pensato di andare a parlare effettivamente con il Viglia Real per Pau Torres. Attenzione, non significa che non credo che la Juventus sia interessata al ragazzo, anzi anche quest'estate era stato un nome che era circolato, è un giocatore interessante, può giocare appunto come terzo di difesa a sinistra, può giocare come difensore centrale a sinistra anche nella difesa a quattro, quindi sicuramente è un profilo molto, molto, molto interessante. Però senza un direttore sportivo a capire, a gestire la Juventus è difficile già pensare a un rinnovo o un riscatto, figuriamoci di parlare di un acquisto, credo proprio che sia fuori dai target della Juventus di questo momento, intanto una luce divina sta scendendo su di me perché il sole sta tramontando. Vi chiedo scusa, c'è questo gioco di luci terribile, a questa ora l'abbiamo visto anche l'altro giorno quando giocavamo la partita alle ore 18, facciamo finta di niente, ascoltate e basta. E proprio del direttore sportivo vorrei parlare perché ragazzi lo scudetto di ieri del Napoli potrebbe aprire qualcosina. Perché vi dico così? Perché nelle scorse settimane parlavamo di Rossi, del Sassuolo, parlavamo di Massara, del Milan e di Giuntoli, del Napoli. C'era un piccolo, piccolissimo problema e cioè tutti e tre in questo momento comunque sono sotto contratto con altre squadre. Però giuntoli dopo aver costruito il Napoli e lo scudetto e dopo aver vinto lo scudetto chissà che non possa decidere di lasciare Napoli e il Napoli per una nuova avventura professionale magari all'interno di un club come la Juventus che ha necessariamente bisogno di una figura come lui che possa cercare di dare delle indicazioni chiare e precise su come costruire la squadra nei prossimi anni. perché nelle ultime stagioni abbiamo visto una Juventus che andava molto in punta di piedi, diciamo così, sul mercato che tante volte scelte incomprensibili e a volte invece trattative chiuse in maniera forse un po' troppo frettolosa e ti interrogavi e dici ma dove stiamo andando? È successo tante volte di parlare di mercato qui sul canale e interrogarci perché certe cose non ci tornavano quindi credo che proprio una figura del genere sia determinante. Nelle settimane scorse leggevo su Facebook da parte di Cristian Belli che io non uso particolarmente Facebook è un social network che uso poco però anche l'altro giorno gli ho risposto in pagina, gli ho detto la stessa cosa uso poco Facebook ma quando mi capita di utilizzarlo leggo sempre con piacere quelle che sono le sue riflessioni. Lui stesso qualche settimana fa parlava di Giuntoli ma metteva come paletto una condizione e cioè che Giuntoli potesse portarsi via, portarsi dietro da Napoli alcuni collaboratori tra cui Maurizio Micheli che è il capo dell'area scout del Napoli. Ora prendetela con le pinze perché la notizia è quella che è, la fonte è quella che è però secondo tutto mercato web sia Giuntoli che Micheli sarebbero in direzione Juventus ed è importantissimo parlare di Micheli proprio perché a quanto pare come riportava Cristian Belli è proprio Giuntoli che chiede Micheli. Nel senso io sono anche disposto a spostarmi però deve venire anche lui con me perché abbiamo lavorato bene insieme, perché ci conosciamo bene, perché abbiamo un rapporto di un certo tipo quindi se io mi sposto d'accordo so di poter lavorare bene insieme a quest'altra persona non è né la prima né l'ultima volta che vediamo un professionista spostarsi insieme al suo staff o comunque con persone con cui ha lavorato in una sfera abbastanza vicina, ovviamente professionale e quindi che possa succedere qualcosa di questo tipo. Io non credo che De Laurentiis sia contentissimo eventualmente di vedere Giuntoli o Micheli lasciare Napoli per la Juve non so nemmeno se aprirà questa cosa, non so nemmeno come possa funzionare dal punto di vista di un direttore sportivo se ci sono clausole, se ci sono scadenze, io queste cose sinceramente non le so però attenzione che il nome di Giuntoli sta tornando sempre più in auge proprio perché a quanto pare pure Micheli potrebbe muoversi e allora viene da sé porsi una domanda perché abbiamo Tognozzi alla Juventus come capo scout come manager, scout manager, che sta facendo un ottimo lavoro l'abbiamo visto comunque con l'Under 23, le next gen, tantissimi giocatori che stanno arrivando alla Juventus in questi anni e che poi vengono proiettate sulla prima squadra se il mercato della prima squadra come dicevamo prima è un po' altalenante, tintennante invece il mercato legato ai settori giovani della Juve secondo me è di altissimo livello stanno facendo un lavoro spettacolare e quindi magari immaginarsi Tognozzi più vicino a costruire primavera barra next gen e Giuntoli con tutto il suo staff anche di scout assegnato alla prima squadra potrebbe essere un'idea interessante non so quanto fattibile proprio perché magari Tognozzi dice sì d'accordo però io lavoro per la Juventus, lavoro in generale per la Juve quindi vedremo se Juventus avrà volontà di inserire all'interno dell'organigramma anche un altro capo scout se sarà disposta ad inserire all'interno dell'organigramma un uomo, un fedelissimo di Giuntoli per farlo arrivare appunto a Torino è sicuro comunque che proprio in queste ore in casa Juve si sta sfogliando la margherita come si suol dire si stanno analizzando un po' tutti i nomi a disposizione ovviamente di Massara Allegri abbiamo già parlato del rapporto tra Massara Allegri l'altro giorno non mi ricordo da chi chiedo scusa magari scrivetelo nei commenti se avete visto lo stesso video ho letto lo stesso articolo non mi ricordo se era audio o video sentivo che comunque anche Rossi del Sassuolo aveva già lavorato con Allegri quindi potrebbero essere anche delle dinamiche legate all'allenatore certo è che solitamente un direttore sportivo insieme scelto dalla società poi insieme alla società sceglie l'allenatore ideale per questo progetto quindi vedremo se poi da questa sorta di nomina da questa sorta di scelta societaria si andrà, si espanderà il tutto anche sulla panchina della Juve però una cosa è certa dentro alle stanze dei bottoni nelle mura amiche bianconere della continassa si stanno facendo dei nomi si stanno buttando giù dei nomi si sta cercando di creare un progetto perché complimenti un anno all'Inter complimenti un anno al Milan complimenti un anno al Napoli d'accordo complimenti 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 bravissimi avete vinto però a Torino non si può stare così tanto tempo soltanto a guardare e sappiamo bene che ci saranno anche guerra extra campo da combattere quest'estate però noi dobbiamo farci trovare pronti al 100% per rimettere effettivamente una base per tornare a vincere perché non basta dire ci proveremo l'anno prossimo l'anno prossimo è i presupposti poi bisogna farlo davvero e per farlo serve una programmazione chiara definita e limpida cosa che negli ultimi anni la Juventus si vede un po' meno diciamo così grazie